Tavolo Corel Beach. Tavolo Corel Beach disegnato da MAC Stoppa è un tavolo con una base in metallo verniciato colore finitura grigio lava e un top in vetro da 15 mm fuso e poi temperato. La particolarità di questa fusione è appunto la texture che abbiamo creato grazie alle tecniche studiate con MAC e i nostri tecnici in FIAM che hanno permesso di creare questo disegno sul top che gioca con la luce e la trasparenza del vetro fino ad avere questa texture non solo sul piano stesso ma che in trasparenza si riesce a vedere anche nel pavimento. Infatti come possiamo vedere questo è un elemento determinante e veramente molto caratterizzante del tavolo che contraddistingue da ogni altro materiale opaco e che quindi non può avere questo tipo di effetto. Il tavolo può essere di misure dai 2,20 m fino ai 3 m per una larghezza da 106 m fino a 120 m e le finiture del top oltre a quella trasparente possono essere blu metallizzato come nel catalogo oppure grigio lava sempre metallizzato.